I social network non sono strumenti, ma mondi fatti di persone con le quali entriamo in relazione. Questa è Fast Forward, la rubrica dove ogni martedì alle ore 12 parliamo di web marketing, una settimana prima. Venerdì si è tenuto a Bologna il Social Media Strategies, un evento dedicato ai professionisti del settore che ha coinvolto 400 persone. Si sono unite per ribadire un concetto. Questo è un lavoro che richiede competenze. Vediamo qualche spunto dalle relatrici e dai relatori dell'evento. Giusto qualcuno, perché le informazioni sono state tante. Riassumere è impossibile. Vedetelo come un assaggio, quasi come il trailer di un film. L'evento era diviso in tre sale, Facebook, YouTube e Google+, Twitter e altri. Nella sala Facebook ha aperto la mattina Valentina Vellucci, mettendo a fuoco un concetto molto importante. I numeri dei social non servono a niente se non li paragoniamo a quelli del mercato in cui operiamo. Quindi se è una pagina fan con un'interazione del 2%, come faccio a valutarla senza avere punti di riferimento nel mercato? Per questo Valentina ha segnalato due strumenti molto interessanti. Fanpage Karma, per lo studio delle nostre performance e per quelle dei concorrenti. Esattamente, posso sapere tutto quello che fa un mio concorrente su Facebook, estrapolando i dati e valutando i post migliori. Talkwalker, che è dedicato al monitoraggio del brand sui social, così posso sapere cosa si dice dei miei concorrenti online. Ma come faccio a migliorare la visibilità dei post? Come funziona Facebook? Di questo ne ha parlato Veronica Gentili e i fattori più importanti sono Affinity, ovvero fare in modo che le persone interagiscano spesso con noi. Wait, quante interazioni ottiene il post? Relationship setting, dire alle persone di usare l'opzione per ricevere le notifiche e inserirci nelle liste. Post type, ovvero quando la persona interagisce con quel tipo di post. Quindi pensate, se una persona interagisce con i post che contengono i video, quando pubblicheremo nuovamente un post con un video, avremo un'alta probabilità che quel post venga visto da quelle persone. In questo caso diventa essenziale un buon piano editoriale e monitorare cosa succede nei nostri post con Fanpage Karma. Infatti lo strumento ci dà l'interazione delle diverse tipologie di post. Così io posso sapere quale post crea più interazione, ma soprattutto non posto troppi contenuti che creano poca interazione. Bilancio il tutto insomma. Dal mio punto di vista è chiaro che sono tre le cose fondamentali. Uno, è inutile creare strategie strane per aumentare i like a caso. Meglio puntare sulla produzione di contenuti interessanti per il target al quale ci rivolgiamo, in modo da farci mettere like perché creiamo delle risorse importanti. Due, le relazioni sono una delle cose più importanti di cui avere cura. Tre, i post devono cercare di trattare argomenti sentiti e attuali, in modo da attirare l'attenzione e l'interazione. Cosa significa quest'ultima affermazione? Facciamo un esempio. Facebook oggi ha rilasciato l'aggiornamento per il quale elimina tutti i post a chiappa click. L'argomento diventa di attualità e tutti quelli che mi seguono sono sensibili alla tematica con pensieri di questo tipo. I post a chiappa click fanno schifo. Portano forse traffico, ma non veicolano i valori del brand. Fanno incavolare le persone. Allora io devo essere bravo a trattare l'argomento in tempo, differenziandomi dagli altri e ponendo l'attenzione su quello che sentono le persone che abbiamo visto prima. Non solo, potrei usare delle tecniche di copywriting come ci ha spiegato Francesca Mattia durante la sua relazione. Aumentare l'interazione usando le domande. Usare l'emoticon, lo sapevate che è questa quella che ottiene più interazioni? Se condivido poi un link posso ottimizzare titolo e descrizione. Francesca inoltre ci ha detto che è bene per aumentare l'interazione, usare i numeri nei post, usare le agitazioni e tante altre cose. E a proposito di numeri, Angelo Marona ne ha portati tanti. Andando a spiegare le strategie di promozione del Festival del Web Marketing che tra i tanti ha utilizzato anche Facebook Ads. Ha mostrato le varie tipologie di ADV create, i post sponsorizzati, quelli mirati, video, interviste, insomma tutto il materiale che era volto a far conoscere le cose importanti di questo evento. Insomma, in questo caso gli obiettivi erano tanti, dalla conoscenza alla vendita. E ha funzionato. Eccezione a parte, ci sono cose per cui Facebook funziona e altre per le quali non funziona? Ne ha parlato in un bellissimo intervento Simone Tornabene, dove ha introdotto le sei caratteristiche della persuasione di Cialdini. Ovvero il contrasto, la reciprocità, la coerenza e impegno, simpatia e somiglianza, autorità e scarsità. Grazie a queste ha spiegato i motivi del perché, in logica di direct response, la ricerca di Google performa di più di Facebook. Ma se invece usassimo Facebook in logica di content marketing, allora batterebbe la ricerca Google 3 a 0. Simone ha portato un intervento strategico, dove è illustrato come ogni strumento ha un suo scopo ben specifico. E in una campagna di web marketing, gli strumenti non vanno in contrasto tra di loro. Quando giochiamo a calcio, si va in campo in 11 e non sempre l'attaccante è il giocatore che incide di più in una partita. Infatti, per esempio, Fabio Sutto e Alessandro Clemente hanno portato dei casi dove riuscivano a utilizzare Facebook a DV in modo più performante rispetto ad AdWords. Un consiglio su tutti è quello di utilizzare sia il retargeting nativo di Facebook, sia il perfect audience. Inoltre hanno segnalato due strumenti molto interessanti. Optimize.ly, per tutti quelli che effettuano a b-test delle proprie landing page. Quindi per tutti, vero? Clickmeter, utile per identificare i click fasulli. Sapete, casomai qualche concorrente clicchi sui vostri ads. Enrico Gualandi, invece, ci ha parlato di Facebook Location, un servizio in beta per le catene di negozio. Se cerco, per esempio, la pagina di Starbucks, Facebook mi mostrerà il punto Starbucks più vicino a me. È molto interessante e il suo funzionamento mi ricorda un po' quello delle global page di Facebook. Ovvero, se dall'Italia cercate di accedere alla pagina ufficiale di Facebook, verrete rimandati a quella Facebook Italia. Passiamo ora dalla sala Facebook a quella YouTube e Google+. Anna Govone ha mostrato come tutte le campagne di successo su YouTube avevano un personaggio umano dietro i video e non il brand. Inoltre ha suggerito che in fase di analisi del mercato è importante studiare la struttura dei video più popolari del settore per capire cosa vuole il nostro target. Però è anche importante studiare a fondo i commenti per capire le domande ricorrenti, le obiezioni, i contenuti che attirano interazione positiva. Come studiare i commenti del nostro settore? Beh, andate su google.it e scrivete Inoltre ha citato un tool veramente molto utile di Compelling.tv Cosa fa? Analizza le SERP di YouTube, così se io voglio essere primo per Facebook Marketing ho un colpo d'occhio sui miei concorrenti. E a proposito di personaggi da utilizzare nei video, Edoardo Scognamiglio li considera uno dei tre pilastri di un'ottima struttura video. Illustrando quelli di Nonna Lea, un'allegra novantenne che dà consigli per la casa con un linguaggio da giovani mostra che il mix esplosivo è composto da tre elementi Un contenuto utile per il target L'individuazione di un contrasto E un personaggio a cui affezionarsi Edoardo ha portato veramente tanti esempi con questo mix esplosivo Francesco Porzio invece ha chiarito fin da subito che non esistono i video virali ma i video che diventano virali E si è soffermato su tre elementi Budget, tempo e competenze Non hai budget? Compenserai con tempo e competenza Non hai tempo? Compenserai con budget e competenza Non hai competenza? Hai un budget e tempo per svilupparla Ma se non hai niente è meglio che lasci perdere il viral marketing E' importante che i video raccontino una storia Che ci sia l'effetto sorpresa E che siano un sali e scendi di emozioni Ma non dimenticare mai un budget in distribuzione Perché questo aggiunge valore al contenuto Da YouTube a Google Plus il passo è breve Claudio Cagliardini ha tenuto un intervento pratico Parlando di alcuni strumenti come Cirque Account Ottimo per avere statistiche su Google Plus Node 3x Per monitorare cosa dicono di noi E trovare le persone più influenti del nostro settore E infine All My Plus Utilissimo per scaricarci tutti i dati E scoprire i migliori post realizzati dai nostri concorrenti Con All My Plus potete non solo scaricare i contenuti di una singola pagina o persona Ma anche tutti i post che contengono una determinata chiave Quindi potete analizzare anche un settore E capire cosa funziona e cosa no Dopo Claudio è stato il mio turno E ho dato qualche consiglio per gestire al meglio le community di Google Plus Essere veramente preparati nel settore in cui si apre la community Avere poche categorie E' piena di discussioni senza lasciarle vuote Non copiare inoltre il nome delle categorie da altre community Dobbiamo differenziarci per dare un motivo di iscrizione alla nostra Bisogna inoltre avere delle regole chiare che comprendono almeno alcune caratteristiche La vision e la mission subito in alto Cosa si può fare? Cosa non si può fare? Dove presentarsi? Dove chiedere informazioni? E dei link d'approfondimento? Ma per portare al successo una community o qualsiasi altro progetto web E' importante capire che dobbiamo essere in grado di produrre i contenuti giusti E quanti tipi di contenuti si possono preparare? Abbiamo per esempio Hygiene Content, Hub Content e Hero Content I primi sono contenuti ricercati ogni giorno I secondi sono schedulati con un po' più di regolarità Per esempio ogni settimana o ogni mese Invece Hero Content sono dei contenuti che facciamo una o due volte l'anno E in tutto questo è importante pianificare correttamente la pubblicazione di questi contenuti Ma oltre alla tipologia di contenuti Io devo sapere il valore che riesco a trasmettere con questi Per esempio posso avere l'obiettivo di informare, educare, coinvolgere e fidelizzare E allora devo avere tutto sotto controllo E sapere per ogni contenuto che tipologia di valore io sto dando In questo modo almeno il mio piano editoriale avrà un senso Per esempio per le community di Google Plus Che tipo di Hub Content potremmo creare? Ci sono per esempio i video ritrovi Ma quanti sfruttano la possibilità di pianificarli? Infatti per quelli che vengono chiamati Hangout on Air Google Plus crea una pagina evento dove le persone si possono iscrivere Potete mettere un trailer Ma cosa importante Quando sta per avvenire il video ritrovo Le persone che si sono iscritte riceveranno una notifica E così non si dimenticheranno di partecipare Ultimo consiglio è quello di salvare tutte le discussioni più importanti Che vengono sviluppate all'interno della community Per farlo per esempio potete utilizzare Digo Che permette di salvare le pagine per tag e categorie Le discussioni storiche sono il cuore della vostra community E permettono di passare la conoscenza da una generazione all'altra Un'altra area di Google Plus tutta da esplorare È stata quella discussa da Luca Bove Ovvero Google My Business Oltre a mostrare che ora Google traccia le telefonate Ha parlato delle caratteristiche per far apparire Quando cerchiamo la struttura su Google.it La foto principale che vogliamo noi E in effetti quando cerchiamo una struttura ricettiva Non sempre la prima foto in alto a destra è quella più bella Tra le best practices consigliate abbiamo No a solo testo Una discreta qualità delle foto Ma secondo me la più importante Devono rappresentare la sede dell'attività commerciale Nel mondo reale E infine Luca ha chiuso parlando di Google Pigeon L'importante update per il mondo local E nella terza e ultima sala si è parlato di Twitter e altri social network La mattina Angelo Marolla ci ha parlato di Manage Flitter Che ci consente di gestire le persone che seguiamo e tante altre cose Ha mostrato inoltre l'uso della ricerca avanzata Poco sfruttata di solito Dove per esempio possiamo trovare i tweet vicini ad una località I tweet con i link Oppure quelli provenienti da una certa applicazione Importante opportunità invece È quella di poter scaricare da Twitter Analytics Tutti i tweet fatti in un determinato periodo Per poi ordinarli E capire quelli che hanno portato più retweet Una volta esportati i dati Ce li troveremo in Excel con un foglio incomprensibile A noi però basterà selezionare la colonna di riferimento Cliccare su dati, testo in colonna E poi spuntare l'opzione virgola E andare avanti I dati così ce li troveremo separati in colonne correttamente Potremmo selezionare la colonna retweets E poi ordinarla in ordine decrescente Espandendo ovviamente la selezione Ecco che in questo caso avremo la lista dei tweet che hanno ottenuto più retweet Ma possiamo farlo con tutte le altre metriche Dopo è stato il turno di Rachele Muccio e Giovanni Arata Che hanno portato due case study molto interessanti Rachele ha portato l'utilizzo di Twitter e degli hashtag Per la promozione di eventi culturali Mentre Giovanni ci ha parlato di come l'azienda promozione turistica dell'Emilia Romagna usa Twitter Lasciandoci con 10 consigli finali Tra i quali spiccano non nascondere errori offline Formazione continua e attribuzione del lavoro altrui Micaela Matichecchia ci ha parlato di LinkedIn Ponendo l'attenzione su quanto sia importante sviluppare una policy sull'uso dei social network Segnalando il sito Social Media Governance Che ha raccolto ben 188 esempi di policy delle grandi aziende che possiamo studiare LinkedIn inoltre è molto importante anche per la gestione della reputazione delle aziende Quindi spingere le persone all'interno dell'azienda a utilizzare bene i profili di LinkedIn È un primo passo da compiere Giuliano Ambrosio invece ci ha parlato di Pinterest E ha mostrato come il ciclo di vita di un contenuto su Pinterest Sia molto più lungo rispetto ad altri social network Mostrando molti esempi ci ha spiegato i 5 motivi per i quali usare le immagini Ovvero perché siamo sommersi dal testo Perché non abbiamo tempo di leggere tutto Perché una foto dice di più di mille parole Perché non siamo in grado di tradurre le emozioni E infine perché le immagini sono più condivisibili Molto interessanti anche le novità lanciate da Pinterest Un notevole miglioramento di Pinterest Analytics La possibilità di inviare messaggi privati tra gli utenti I promoted pin Ovvero Pinterest ha introdotto l'advertising all'interno della sua piattaforma E infine Cosa che sicuramente non ci mancava L'integrazione con le gif animate Ci sono già i gattini su Pinterest? Giuliano ha concluso l'intervento parlandoci di alcuni tool Ecco quelli che sono secondo me i più importanti L'Expin Reach Che permette di ottenere statistiche su un account specifico Q-Relate Che ci permette di ricercare gli influencer E fare un'analisi dei competitor E infine Viraltag Che nella sua versione pro Ci consente addirittura di schedulare i vari pin Novità assoluta invece è stato l'intervento di Alessandro Veroli Che ci ha parlato delle ottime possibilità di fare web marketing Attraverso WeChat È uno strumento che è possibile utilizzare anche senza dare il nostro numero di telefono Attraverso lo username Funziona anche attraverso il computer E offre la possibilità di inviare un messaggio a tutte le persone della rubrica Rispondendo poi uno a uno Ci sono già vari case study di università Di compagnie aeree E per esempio pensate che Starbucks dà la password del wifi tramite questa applicazione Così acquisisce il contatto E può mandare un messaggio sulle promozioni della giornata Sicuramente sarà molto importante studiare questi servizi di messaggistica che vanno oltre la chat Finito con gli interventi nelle tre sale Abbiamo concluso la giornata in plenaria con due interventi molto interessanti Giorgio Soffiato ci ha parlato dell'allocazione del budget e del ritorno all'investimento Ponendo l'accento su come oramai sia indispensabile misurare tutti i dati fuori dal social network Sui siti E ovviamente sempre cercare di contestualizzarli a secondo di chi abbiamo davanti Purtroppo sono ancora tante le persone che tengono in considerazione solo i dati interni alla piattaforma Senza nemmeno chiedersi quando le persone poi arrivano sul nostro sito che cosa fanno Invece Andrea Boscaro ha fatto un intervento dimostrando come le storie sono il veicolo più importante per i valori del nostro brand Ha spiegato inoltre di come oramai sia imprescindibile l'uso dei modelli di attribuzione delle conversioni Per il ruolo che oggi giocano i social network in un piano di web marketing E infine ha posto l'attenzione su come vendere i social media Ed è tutta una questione di far capire che non sono un giocattolo Ma un lavoro che richiede professionalità e competenze E questo noi lo dimostriamo con i numeri Ecco, spero che questo trailer ti sia piaciuto e ti invogli l'anno prossimo a guardare il film La risorsa della settimana è un articolo di Alessandro Sportelli sul Connection Funnel Estremamente a tema con l'evento appena concluso E a tal proposito ringraziamo Alessandro Sportelli, Anna Magri e Andrea Pernici Per aver fatto i moderatori delle tre sale Al lato trovate due video Il primo è dedicato alla settimana della formazione sui social network A tema quindi Vi consiglio assolutamente di vederlo Il secondo invece è il video di Fast Forward che ho ottenuto più interazioni, più visualizzazioni Si era detto che Google Plus fosse morto, no? Se il video ti è piaciuto clicca su mi piace Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi E soprattutto se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale Per non perdere la prossima puntata di Fast Forward Ogni martedì alle ore 12 Grazie a tutti